Ovviamente ai ferraristi interessa molto poco che Hamilton abbia tagliato il traguardo delle 100 vittorie e che Verstappen abbia miracolosamente limitato i danni nella corsa al Mondiale. I ferraristi, dopo Sochi, si pongono egoisticamente una domanda, quanto vale il terzo posto di Carlos Sainz? Quando lo spagnolo si è incredibilmente trovato in testa nei primi 12 giri, cosa stavano facendo gli altri? Scherzavano forse? Beh, innanzitutto chiariamo che Carlos ci ha regalato l'emozione di una partenza perfetta, coadiuvata da una manovra da manuale nell'imminenza della prima curva quando ha superato il dislancio Norris. Dopodiché ci ha preso gusto e ha provato ad allungare, anche se l'illusione è durata troppo poco. Ma da quanto tempo non vedevamo una Ferrari al comando di un Gran Premio? In tempi magri bisogna accontentarsi di quello che arriva. Poi Carlos si è un po' imbambolato dopo il pit stop alle spalle prima di Gasly e poi di Bottas, salvo riprendersi al momento giusto e conquistarsi la salita sul podio. Bravo con una macchina che ha usurato le gomme più della McLaren, ma con un ritmo dignitoso, incoraggiante. E veniamo alle Clerc, che si è piazzato quindicesimo, però quel primo giro con sette sorpassi, sgosciando miracolosamente e rischiosamente tra le gomme dei rivali e i muretti, ha chiarito che Charles non molla mai e che il suo spirito è quello, anche nei momenti difficili. Alla fine, nel caos della pioggia, persino rischiato di essere lui a balzare sul podio, se Sainz non fosse stato richiamato prima a cambiare le gomme. Ma che meraviglia il passo di Charles a metà gara, quando recuperava terreno niente meno che alla Red Bull di Verstappen, grazie anche al motore che nella parte ibrida contiene innovazioni che rivedremo sulla Power Unit del 2022. Insomma, qua e là la Ferrari sta mostrando progressi che dovrebbero concretizzarsi sulla nuova vettura, perché quella attuale è ovviamente plafonata. Ora è vero che anche gli altri non stanno fermi e soprattutto Mercedes e Red Bull non sono con le mani in mano ad attendere il ritorno di Maranello, ma la Ferrari tra le righe sta lanciando lampi di luce che incoraggiano. Tornando invece a chi va forte sempre, senza rinviare le attese, c'è da dire che il colpaccio a Sochi lo ha fatto più Verstappen che non Hamilton, perché si è piazzato secondo facendo finta di non essersi schierato in fondo lo schieramento causa la Power Unit per giunta con la penalizzazione per l'incidente di Monza. Adesso conta poco che sia giunto al traguardo con un distacco di 53 secondi dal vincitore. Conta invece che si sia portato a casa 18 punti, anche se il leader è tornato Hamilton. La pioggia comunque è stata una manna per entrambi i contendenti al titolo. Hamilton ha avuto il vantaggio di essersi sbarazzato facilmente di Norris. Verstappen come un gatto approfittato alla grande dell'inferno dei concitati cambi gomme tardivi da parte di molti nei giri finali. Senza la pioggia però Hamilton a mio avviso si sarebbe piazzato secondo e Verstappen settimo. Per Lewis sarebbe andata quindi meglio perché avrebbe rosicchiato a max ben 11 punti invece di 7. Il mio ultimo punto non riguarda stavolta né piloti né macchine, ma la follia di un calendario troppo affollato di corse per la bramosia dei team e di Liberty Media di incamerare denaro. Mattia Binotto alla domanda sui pit stop che sono diventati generalmente più lenti, non solo a causa delle disposizioni della FIA, ha avuto il coraggio di evidenziare la stanchezza dei meccanici addetti alle soste in una stagione, ma questo lo aggiungo io, troppo lunga e intensa, con appuntamenti che si susseguono senza respiro. Non concedersi tempi di recupero in una situazione del genere si ripercuote sulla competitività delle macchine, ma anche sullo stress di piloti, ingegneri, meccanici. E tutto questo alla fine ha una ricaduta enorme sulla sicurezza. Ha senso? No, non ha senso, se non in una logica perversa di personaggi che tirano le fila solamente per arricchirsi, guadagnando a dismisura alla faccia di tutti, compreso quel pubblico appassionato che ancora si illude che ci siano dei contenuti morali, sportivi, etici da difendere. Ma che purtroppo non c'è più niente di tutto questo e un giorno ne parleremo più a fondo.